Come è nato questo posto? Buongiorno, mi chiamo Serena e sono Greca e vogliamo chiederti a te se ci sono e se c'è un posto della libreria c'è una storia, c'è un posto di storia. Questo un tempo erano le scuole e le notari, la vedremo, è in una piazza piccola che è dedicata al primo sindaco donna d'Italia. Cosa pensi che un posto come la biblioteca possa portare le persone di Laffa Antica? Sicuramente riscoprire il piacere dell'avventura e soprattutto essere un punto per degli incontri.